dai lì e lì dove hai detto che sono più che parlo più di Rocco non è vero non cominciamo no perché non è il circo tutte le domande bisogna rispondere sei pronta? si parla non fare questa cosa non stare con le mani e che ti faccio? stai comoda, stai tranquilla, rilassata si te stessa nome Nicoletta Tullio cognome Degani Cesario nome su Instagram Nicoletta Degani Progetto Noa e cosa significa? è una storia lunga che frega un cazzo a nessuno giuri di dire la verità tutta la verità nient'altro che la verità? lo giuro lo giuro salutatevi ciao Tullio dove eri? di qua o di là? quante foto scatti in media prima di ottenere la fotografia perfetta? non lo so qual è la fotografia perfetta non lo so ma in realtà non le ho mai contate non le conterò perché non credo di aver fatto mai una foto perfetta qual è la tua mossa ninja per catturare uno sguardo spontaneo? io fotografo sempre da lontano difficilmente mi avvicino quindi non ho non ho una mossa ninja come diceva Daniele Silvestri se guardo ti guardi se piangi io piango se ridi io ridi è una cosa più o meno una cosa così se le tue foto potessero parlare cosa direbbero? lascia perdere falla finita basta smettila torna a fare qualcos'altro cosa fai quando qualcuno ti chiede di eliminare una foto imbarazzante? se me lo dovessero chiedere perché non mi è mai successo ovviamente l'hai lì tutte le volte l'ho eliminata però tutte le volte ho provato a far cambiare idea a chi non ha chiesto ci sono riuscito poche volte qual è il soggetto più strano che hai mai fotografato per strada? soggetto più strano forse Joker Nicoletta vestita da cavallo ma quando? a Carnevale credo no non era a Carnevale era un giorno qualunque cosa pensi quando qualcuno dice che tutti quanti possono fare fotografie? che è vero tutti possono fare fotografie se le faccio io lo può fare chiunque altrimenti non avrei fondato F4 no non mi piace questa qua mi falla cosa pensi di chi scatta foto solo col cellulare? penso che che fa bene però forse si perde qualcosa a non scattare con una fotocamera è che per me paradossalmente fanno bene risparmiano un sacco di soldi con le macchine fotografiche ormai va bene anche quello io non ci riesco però ecco un po' l'invidio ballate ma che domanda è parlare? se potessi fotografare un momento storico passato quale sceglieresti? la rivoluzione industriale di sicuro a gusto quale scatto ti ha fatto chiedere ma come cazzo ho fatto a scattare questa fotografia? è il mio scatto preferito un bambino che sale la scala col maglioncino rosso non l'ho ancora fatta credo una fotografia che mi ha dato questa mi ha suscitato tutta tutta questa emozione se le tue foto avessero una colonna sonora quale canzone sarebbe? che ne so la colonna sonora il cosa che si chiama? il jingle dell'intervallo delle pecore quello come era? the bitter end dei placebo quale sarebbe il tuo consiglio per uno che vuole diventare un fotografo di strada? vai esci cerca te stesso negli scatti che fai l'unico consiglio che mi sento di dare è quello di vivere la strada provarla respirarla hai mai fatto una foto che ti ha fatto emozionare mentre scattarvi? sì più di una una mamma che allattava il bimbo in strada perché mi sono rivista e ce ne sono tante forse quella o un pochino di più tutte se no che cazzo scatto a fare quale oggetto strano porti sempre con te mentre fai fotografia? quando esco normalmente già porto una valigia dietro piena tutti gli obiettivi porto veramente tutto e ci manca solo oggetto strano piuttosto mi chiederei che cosa riesco a portare perché solitamente mi dimentico le cose quindi mi dimentico le memory card mi dimentico gli obiettivi sì ho dimenticato anche la fotocamera qual è la differenza tra una buona fotografia e una fotografia straordinaria? una buona fotografia è una fotografia straordinaria una fotografia straordinaria è quella che ti fa restare lì a guardarla per un sacco di tempo fotografia buona per meno tempo quella fotografia che catalizza completamente la mia attenzione non mi fa muovere lo sguardo non mi fa andare avanti è una fotografia che mi paralizza un po' e paradossalmente mi porta dentro il mondo che sto guardando attraverso quella foto mi mette in connessione con chi l'ha scattata e la differenza? ma le domande adesso le fai tu la differenza è che una buona fotografia per me e tutte quante le altre sono buone fotografie se sono coerenti con se stessi cosa ne pensi dei preset perfetti tanto di moda che regalano tutti? che ti rispondo che ne so non lo so ma che è un preset? volevo dire copia e incolla ma dopo l'ultima risposta che ha dato me ne guardo bene dai tu glielo so che cos'è un preset però non me ne frega niente non me ne frega niente neanche a me cosa pensi delle foto che diventano virali sui social media? dipende dalla foto cioè se una foto è una bella foto ci sta che diventi virale però spesso il fatto che diventi virale non è legato al fatto che sia una bella foto l'ultimo esempio di viralità che io mi ricordi ci ha portato tutti quanti in lockdown quindi personalmente me ne guardo bene quale fotografo famoso pensi che sia sopravvalutato? nessun fotografo famoso è sopravvalutato in questo momento no se sono famosi è perché sono bravi mi bannate se rispondo? anche perché la mia lista sarebbe lunga ci vorrebbe una puntata solo per questo lo vedi? ecco compenso io vedi sono urticante però sì assolutamente poi il concetto di famoso è molto relativo è appunto non hai risposto qual è la tua regola principale nella composizione di una fotografia di strada? non ce l'ho le regole cioè nel senso che una fotografia di strada è una foto veloce fugace istantanea la perdi in una frazione di secondo la prendi come viene non 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 ce l'ho una regola non ce l'ho cerco di di trovare una posizione quando è possibile giusta per il discorso della luce ma non non ho una regola impossibile trovare è una regola che non viene annoverata tra quelle di composizione ma per me è quella fondamentale si chiama interocezione i cuori e dopo questo ma che cosa ma che che è come gestisci la competitività nel mondo della street photography io non gestisco nessuna competitività cioè non sono in competizione con nessuno e penso che nessuno dovrebbe essere in competizione con nessuno perché non è uno sport mi sembra che sta cosa la diamo anche chitta cioè la street photography non è uno sport così come non lo è la fotografia così come non lo è l'arte ognuno fa di suo per se stesso e per comunicare agli altri qualcosa ma non può essere in competizione con nessun altro perché ognuno ha un pensiero e un modo personale di fare non vado fiero di quello che sto per dire ma mi vergogno di essere uno street photographer quando si parla di competizione ecco quale superpotere vorresti avere per migliorare le tue fotografie l'invisibilità o il teletrasporto no no di jet avrei risposto all'invisibilità sarebbe bellissimo perché insomma non ti vede nessuno però pure il teletrasporto cioè che a un certo punto decidi di andare in un posto dove magari non andrai mai teletrasporto sì sì teletrasporto avessi il dono dell'invisibilità perderei parte della bellezza della street photography e quindi probabilmente non mi piacerebbe più cosa invidi tra le capacità del tuo compagno cosa tutte è bravissimo sto aspettando il ma non lo dico allora siccome io non sono paraculo aspetta dai te lo dico no no rifammela rifammela perché se no dai ne invidio tante di capacità una in particolare voglio proprio sentire il bianco e il nero emozionale mi odio mi odio no vabbè io non lo so potrei potrei dire invidio tutto della mia compagna eh sì bugiaro ma in fotografia posso dire che in assoluto invidio il modo di trattare il colore ma più che trattarlo il modo di guardarlo e questa cosa mi ha attratto dall'inizio e quello che mi sta facendo mi ha spostato la mia attenzione dal bianco e nero al colore ancora con scarsi successi se la tua fotocamera potesse parlare quale sarebbe la prima cosa che ti direbbe ogni tanto lasciami in pace lasciami a casa non mi portare sempre con te che c'è il diritto di recesso di 14 giorni in una scala da 1 a sono invisibile quanto sei bravo a scattare foto senza essere notato da 1 a sono invisibile sono invisibile confermo è invisibile se le tue foto fossero un genere musicale quale sarebbe? blues sicuramente indie indie come tutto quello che ha caratterizzato ciò che ho fatto nella vita hai mai usato il tuo talento fotografico per impressionare qualcuno? involontariamente sì ha funzionato? rispondo io sì ha funzionato io no no ho utilizzato altre tecniche persuasive qual è la cosa più difficile che hai fatto per ottenere una fotografia perfetta? non ho fatto nessuna fotografia perfetta è stato fare un viaggio con una persona che col senno di poi era meglio non aver cresciuto quanto tempo passi a spiegare alle persone che street photography non significa fotografare per le strade? poco poco tempo non c'è tutto assaggiante che mi chiede che cos'è la street photography perché le persone che frequento fondamentalmente sono street photography quindi pochissimo non mi senti più? è che io mi fingo muto e sordo ma non per sempre come reagisci quando qualcuno ti dice questa foto avrei potuto scattarla anche io? ma non mi è successo certo ce l'ho fatta io ce la fai anche tu mi raccomando continua però se potessi esporre le tue fotografie in un luogo improbabile quale sarebbe? del Grand Canyon io posso dire a casa di chi mi ha accusato di essere insolente casa di chi mi accusa di non avere contenuto di bla 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 ecco mi piacerebbe essere presente lì sempre per ricordargli le stronzate che dice quale consiglio daresti a te stesso quando hai iniziato a fotografare? quando hai iniziato a fotografare a me stesso di farla di più è più spesso investi in bot qual è la domanda che non vorresti mai che ti fosse fatta in un'intervista? dopo tutte quelle che mi hai fatto tu praticamente non ci sono più domande il posto più improbabile dove esporre le mie fotografie ho risposto quindi eh vedi se dovessi dare un nome alla tua fotocamera quale sarebbe? Geronimo la mia macchina fotografica la chiamo Laila qual è la cosa più preziosa che hai imparato dalla strada? ho imparato dalla strada che che senza di lei intesa come fotografia di strada ovviamente ehm oggi non sei la stessa persona dedicargli del tempo mi ha fatto tanto bene cosa mi ha insegnato la strada? vivere preferisci scattare da solo o in compagnia? sola con Nicoletta prima che rispondessi solo solo preferisco scattare da solo quanto è importante il fattore culo nella street fotografica? è importantissimo fondamentale culo assai ce lo vuole cosa ruberesti al tuo compagno? ovviamente nell'ambito fotografico ehm eh 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 sono la macchina no e la la eh la poesia i capelli i capelli il tuffo la coda sì più o meno questa roba qua cattivo 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 cosa non cambieresti della tua fotografia? il colore la capacità di guardarmi dentro cosa proprio non ti piace della tua fotografia? no ma questa c'è una domandaccia che 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 ne so che non mi cioè a volte non mi piace niente a volte mi piace tutto eh cosa non mi piace non mi piace quando eh non ci sono quei momenti di crisi che non 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 mi piace non mi piace quello che che fotografo non mi piace che non fotografo perché non va che ne so non lo so la capacità di guardarmi dentro cosa cambieresti della fotografia del tuo compagno? nulla cosa cambierai della fotografia di Nicoletta dopo le cattiverie che mi ha detto potrei dire tutto però diciamo ma che cosa che cattiveria ha detto? cosa cambierai della fotografia di Nicoletta devi essere sincero della fotografia ma stai zitta parli più di Rocco cosa cambierei della fotografia di Nicoletta il formato verticale 99 su 100 qual è il difetto più grande del tuo compagno? beh aspetta aspetta quanto tempo ci abbiamo? allora il difetto più grande è che non gli lasciate mai una cucina perché ve la distrugge completamente cioè per cucinare perché ve la distrugge anche solo per fare il caffè il difetto più grande è che è dispettoso anche quando andiamo a fotografare dispettoso il dito vi lascio immaginare dove madonna però preferisci scattare a colori oppure in bianco e nero? io fotografo a colori il mondo a colori trovo il bianco e nero quando non ci sono cioè quando c'è il bianco e il nero dove non ci sono variazioni cromatiche quando c'è il al massimo un paio di di toni di colore bianco e nero bianco e nero e di nuovo bianco e nero cosa è per te F4? che bella domanda F4 è una figlia è una figlia a tutti gli effetti ed è in questo momento è l'isola felice F4 è il posto che avrei voluto frequentare e che avrei voluto esistesse quando io ho iniziato a fotografare è il mondo che vorrei hai mai pensato di realizzare un calendario con le tue fotografie? io no qualcuno una volta propose sta cosa ne parlammo però c'era proprio per ridere ecco quando qualcuno ha proposto questa cosa non fa più parte del collettivo cosa pensi degli eventi pubblici per strada? gli eventi pubblici mi piacciono però non li preferisco a situazioni di normalità però mi piacciono ci vado a fotografare ma per quando vado in un evento pubblico vado con un'idea ben precisa dello scatto che sto cercando e quindi se lo trovo bene altrimenti posso scattare anche pochissimo altrimenti niente ne faccio a meno è un ottimo posto per fare palestra cosa pensi dei progetti fotografici? penso che sono ho stima di chi ha progetti fotografici una cosa che penso anch'io ogni volta mi piacerebbe ma non non ci riesco proprio perché poi io sono in continua evoluzione cambio continuamente quindi non preferisco qualcosa in assoluto rispetto ad altri li rispetto finché sono esigenze personali quindi ce l'ho anch'io qualcuno qualcuno lo sto coltivando ma soltanto perché ecco è una mia esigenza quando viene imposto viene richiesto li apprezzo un po' meno quanto storytelling c'è nelle tue fotografie? non aspetta a me dirlo diciamo l'obiettivo che uno si prefigge quasi sempre non lo so devo dire tanto altrimenti non ne avrei scattato nemmeno una poi spero che arrivi la stessa quantità di storytelling credo di inserirci dentro e che passi cosa pensi quando qualcuno ti dice che non sei un bravo street photographer? a me non me l'ha mai detto nessuno cioè nel senso a bugiata ma che non me l'ha mai detto nessuno che non sono un bravo street photographer ma perché cioè l'ho scoperto ieri di fare fotografia di strada ma lo faccio per passione quindi se qualcuno mi dice adesso non sei un bravo street photographer a me non interessa relativamente nel senso che poi alla fine io fotografo per me stessa cioè non è che fotografo per gli altri condividi perché c'è la possibilità di condividere adesso c'è F4 operana è che lo faccio per professione e devo arrivare chissà dove cioè questi cazzi ecco non lo volevo dire dai e io gli dico che ha ragione assolutamente ha ragione non sono un bravo street photographer sono una pippa quale consiglio daresti a chi vuole iniziare a fare street photography? gli direi di uscire in strada spesso possibile di scattare tanto che all'inizio funziona così e poi come detto prima cercarsi nelle fotografie che fa e cercare sempre di incuriosire anche un po' gli altri attraverso io gli consiglierei di non curarsi di chi gli dirà nella vita che non è un bravo street photographer chi è più bravo dei due? Tullio Nicoletta senza dubbio chi è più fotogenico? Tullio no Nicoletta io sono no 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 sei un bugiardo proprio maledetto sano questo non lo so ma no perché perché tu mi fai delle foto cattive ma cattive quindi viene fuori proprio che io e la macchinetta abbiamo un pessimo rapporto quando sto dall'altra parte per colpa tua una cosa fotogênica ti fai fotogênico troppo Hai mai chiesto al tuo compagno di mettersi in posa per fingere una foto street? Sì, ma non per fingere, cioè mi piaceva la situazione e ho fatto una foto, poi ovviamente non fingo niente, si capisce che è lui. Io in realtà lo farei anche, è che sono troppo impegnato a fare il modello suo. Hai mai rubato una foto al tuo compagno? Sì, gliel'ho rubata più di una, soprattutto quelle che lui non ha fatto fare a me, cioè che si è messo di traverso e me le ha fatte venire male perché la doveva fare lui e poi in qualche modo sono riuscita a convincere, dopo varie litigi, a darmi quella che mi aveva fregata. No, non le ho mai rubate una fotografia, più che altro mi tocca nascondermele le foto perché sennò me le ruba. Qual è il dispetto peggiore che ti ha fatto il tuo compagno? Cioè non è che c'è un dispetto peggiore, quando usciamo insieme a fotografare è un continuo, spinte, canghette, si mette dietro, si mette dietro, no, come si chiama? Come si chiama? No, dì, come si chiama? Non mi viene il termine. Sgambetti. Lo sgambetto, spinte, sgambetti, si mette dietro, si mette davanti, è un continuo. Qual è la domanda? No, 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 Nicoletta Dispetti no, non ne fa a lei un angeletto, grazie a Dio che esiste. Avete mai litigato nelle vostre uscite fotografiche? Sempre. Vabbè, dico una bugia, non l'abbiamo mai litigato. No. Fatevi un insulto a vicenda. Ladra di foto. No, non ce la faccio. È troppo pesante. Stronzo. Ah, come siamo partiti leggeri. Quale luogo comune ti dà fastidio sulla street photography? Mi dà fastidio quando si parla di stile. La relazione tra la quinta, la scena e il soggetto. In una scala da 1 a ho fotografato un lampione. Quanto è originale il tuo ultimo scatto? Ho fotografato un lampione. Ho fotografato un lampione. Hai mai sentito il bisogno di scusarti con la tua fotocamera per aver scattato una fotografia terribile? No. Sì, l'ultima fotografia che ho fatto. Quella del lampione. Se dovessi descrivere la tua street photography come un piatto di cibo, cosa sarebbe e perché? Una torta alla frutta. Perché? Colorata e dolce. Sicuramente un piatto di lasagne. Perché è a strati, è a livelli. E che risposta? Ma io dovevi dire carbonara, io penso. Hai mai pensato di iniziare una collezione di foto di persone che scattano selfie? Ho tantissime foto di persone che si scattano selfie, ma non ho mai pensato di farne una collezione e non ho mai pensato nemmeno di condividerle. Che si scattano selfie no, ma che mangiano il gelato sì, perché poi vorrei sempre attaccarle in quel posto improbabile. Qual è il tuo nemico naturale nella street photography? Tullio, per quel motivo là che non mi fai... Io non voglio andare in onda. Dai, perché mi fai gli spetti. E poi, cioè, con te è un casino, visto? Poi quando mi fai le foto brutte, che tutte quelle foto dove si vedono tutti i difetti del mondo, lo fai apposta. Quando mi ricatti, per le foto brutte che mi fai. E quando apri l'hard disk, che mi dici vado a casa, adesso apro e poi faccio... Tullio. Se potessi scambiare la tua macchina fotografica con qualsiasi oggetto magico, quale oggetto sarebbe e perché? Che bella domanda. Allora, io la macchina fotografica la scambierei molto volentieri con la bacchetta della maga madrina di Ciclorentola. No, quello non è. Quella è la magica bula, bambini. Quella. Perché innanzitutto con la bacchetta magica, poi faccio quello che vuoi, tac, e faccio apparire subito la macchina. E poi potrei fare un sacco di cose figliissime. E da Bumbu erdico le telesfere del drago. Se potessi vietare una cosa nella street photography, quale sarebbe? In flash e in faccia. Le mode. Se potessi fare una domanda a un grande fotografo passato, chi e cosa chiederesti? Farei una domanda ad Erwin che ti chiederei come si sentiva ogni volta a fotografare personaggi importanti che ti sono capitate. Quanta era bella Marilyn? Io chiederei a Bresson che cos'è la street photography. Così giusto da diglielo a questi qua che a tutti i costi vogliono dare una definizione precisa. C'è un rituale strano che segui prima di uscire a scattare fotografie? No, a parte caricare la macchinetta, prendere la scheda, mettere a posto gli obiettivi, fare una pulitina e controllare che ci sia tutto. Sì, ne ho uno in particolare ed è questo, ma di cui poi parlerò in un workshop che terremo a breve. Se gli alieni atterrassero domani e tu potessi fare loro soltanto una fotografia, cosa cercheresti di catturare? Che bella domanda. Lo sguardo. Beh, immagino l'alieno con un sacco di occhi. La parola. Io ho la reazione dei terrestri che guardano per la prima volta gli alieni. Quale personaggio famoso fotograferesti? Il Papa. Bello, il suo vestito bianco contro un fondo nero e riuscirei a fare finalmente un bel bianco e nero. Steve McQueen. L'ho detto così giusto per dare una risposta, in realtà è un cazzo. Vi siete divertiti? Un sacco. È stato complicato, ma diciamo di sì. Salutate. Chi? Ciao. 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 Ciao.